Capitali coraggiosi inside Crypto Asset Management, episodio numero 6. Trattiamo oggi il tema del altcoin decoupling in seno a questo specifico pamflet. Ho voluto dedicare un ampio parentesi ad un tema emergente, ovviamente finanziariamente parlando, che è legato a come dovrebbero essere impostate oggi le principali modalità di costruzione dei portafogli richiamando proprio a questo specifico fenomeno finanziario. È fondamentale pertanto distinguere a livello strutturale la differenza che vi è tra l'altcoin season o altseason e il fenomeno del decoupling finanziario. Il capitolo numero 6 è fortemente incentrato proprio su questa specifica caratteristica distintiva che è fondamentale per i prossimi anni nel momento in cui si andranno a costruire portafogli e crypto asset allocation basate magari su convinzioni che ormai sono anacronistiche. Il decoupling si è potuto verificare e notare anche verso la fine del 2022 in particolar modo conclamato bear market in cui alcuni, non tutti, crypto project hanno iniziato a smarcarsi e dimostrare un momentum totalmente differente rispetto a quello che potrebbero avere le due principali altcoin, bitcoin ed ethereum. Per dare ulteriore elemento di riflessione questa grafica mette in comparazione vedete il market share del 2020 con quello del 2021 e potremmo farlo tranquillamente anche con quello del 2022 in cui si notano delle sensibili ridimensionamenti di peso all'interno del market share di che cosa? Delle altcoin che per definizione rappresentavano anche lo 90% delle crypto asset allocation fino a qualche anno fa. Poi con il tempo anche per l'emersione di progetti che si stanno dimostrando disruptive è chiaro che i capitali, quelli che contano, quelli mossi dai fondi, quelli mossi dagli operatori istituzionali cominciano a dirottarsi altrove e pertanto mutano profondamente anche le dinamiche di mercato nel suo complesso. Una delle ambizioni che ha questo pamphlet è individuare le prossime crypto funk dando tutta una serie di elementi per discriminare all'interno di questo specifico settore. Nel capitolo 6 vengono analizzate e descritte sette aree tematiche settoriali in cui potrebbero emergere nei prossimi due anni una o più di queste crypto funk e come potete vedere si va dalle blockchain high performance fino ai metaversi e addirittura al punto 7 anche il mondo dei marketplace proprio nella consapevolezza che lì cominciano adesso ad essere attenzionate elevate masse, elevati capitali che stanno arrivando da provenienza istituzionale. Non è casuale che proprio verso il secondo semestre 2022 sono stati anche nel territorio italiano, nei mercati azionari europei lanciati, collocati numerosi comparti finanziari che hanno esposizione direzionale tematica proprio con sia il mondo del metaverso che anche quello degli NFT. Questo è un device mobile che viene menzionato all'interno del pamphlet di Pundi che è un'azienda indiana che fa capire come si stanno sviluppando alcuni crypto project al di fuori anche dei confini europei per far capire la necessità che avranno ad esempio e che hanno già oggi i merchant di accettare pagamenti non necessariamente solo con Bitcoin ma aumentando la platea a numerose altre altcoin proprio dando l'opportunità, la possibilità alla propria clientela di scegliere quale criptovaluta utilizzare per effettuare una transazione, anche una transazione di importo modesto e questo vi deve far capire anche dove potrebbero quale settore potrebbero arrivare i prossimi CryptoFunk per chi ancora non lo sapesse il pamphlet è disponibile anche in versione ebook e ovviamente tutti coloro i quali lasceranno una recensione 5 stelle a 5 stelle possono richiedere anche un pass gratuito per la sezione Markets del mio sito professionale di 30 giorni in descrizione potete trovare ulteriori elementi di riflessioni su quelle che sono le nostre convenzioni tematiche di investimento anche all'interno dell'incubatore finanziario Uchain